Evangelizzare il popolo nomade, così il pastore Fabio Robert, motiva il tradizionale raduno dei sinti che da anni scelgono Piacenza per riunirsi. Sono già 200 le roulotte parcheggiate nell'area di Via Madotti all'interno del polo logistico. Ne arriveranno altre 150, vale a dire più di 1000 persone provenienti da tutta Italia. Fino a domenica 25 maggio si terranno incontri, cerimonie e riunioni evangeliche. La giornata conclusiva sarà dedicata ai battesimi. Il senso è che noi vogliamo propagare l'Evangelo. Come mai avete scelto Piacenza? Perché Piacenza è un luogo dove sono tanti anni che veniamo. Noi prima la facevamo in Via Conciliazione, in Via Dante, vicino a Via Dante, facevamo lì le riunioni perché appunto anche il comune è sempre stato abbastanza disponibile nel concederci posti. Dove abbiamo possibilità di andare ci andiamo. Grazie. 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 Grazie.